...minimamente la temperatura a Pioli, intanto saranno 4 minuti di recupero sui giocare fino al 49esimo. Adesso attenzione, è la serataccia di... ...Felipe si andrà fino al 50esimo. Sì, è proprio il piede, gli ha messo il piede sulla spalla. E poi però vedo Felipe Melo che si inginò, che subì...